Chiederà un attaccante? È appena finita la partita, è chiaro che io mi auguro, prima dobbiamo capire e conoscere bene le tempistiche degli infortuni di Rebic, che mi auguro che non sia lungo. E poi un giudizio sulla prestazione di Diaz e sulla prestazione di Tonali? Hanno bisogno di giocare, avevano bisogno di giocare, si sono fatti trovare pronti, chiaramente è ancora un anno in ritmo, ho partita, ma ho visto delle buone cose e sono sicuro che non potranno che crescere.